Ci troviamo virtualmente e non in piazza con le autorità civili e militari, con le associazioni combattentistiche d'arma, con l'AMPI e con tutti quei cittadini che normalmente avevano l'abitudine di partecipare attivamente alle manifestazioni del 25 aprile. Questa situazione, quasi surreale, in cui ci troviamo per ricordare e festeggiare la liberazione dell'Italia dalla dittatura nazifascista, ci obbliga a ripensare in chiave attuale questa festività. Mai come oggi ci è chiaro il concetto di libertà. In un mondo sempre più connesso, dove le relazioni interpersonali sono fondamentali, ci rendiamo conto che la libertà di muoversi e di interagire con gli altri è elemento imprescindibile della nostra quotidianità a cui difficilmente possiamo rinunciare. E se lo facciamo, come in questi giorni, è solo per la tutela di un bene collettivo primario come il diritto alla salute, garantito e tutelato dalla nostra Costituzione. Proprio la Costituzione, che oggi ricordiamo come figlia di quel periodo storico, come il frutto di un compromesso tra diverse forze politiche, tra idee politiche contrapposte, che dopo una lunga fase di opposizione anche aspra, hanno saputo fare sintesi per dare al Paese quelle regole fondamentali di convivenza civile, che hanno consentito all'Italia del dopoguerra di rinascere in pochi anni e diventare una delle principali potenze economiche occidentali. Figlia della lotta di liberazione è anche la nostra autonomia, la tutela delle ignoranze linguistiche, il riconoscimento dello statuto speciale. È infatti nelle gesta eroiche dei partigiani che affondano le radici della nostra Repubblica e, per noi valdostani, l'autonomia. Senza quel drammatico periodo storico che ha consentito a chi è venuto dopo, compresi noi oggi, di godere di una serie di diritti fondamentali, direi quasi scontati, non ci sarebbe stata la Repubblica così come la conosciamo oggi, con i suoi difetti, i suoi limiti, ma anche le tante virtù che spesso si dimenticano, come la libertà. Tutte le forme di libertà di cui godiamo oggi, la libertà economica, la libertà di espressione, la libertà di culto, la libertà di stampa, la libertà di spostamento anche fuori dai confini nazionali, non esisterebbero senza quegli anni cruciali della nostra storia, senza il sacrificio dei nostri antenati, che hanno saputo scegliere il giusto campo di battaglia ed hanno, il 25 aprile del 1945, sconfitto una dittatura che aveva limitato molto le libertà individuali dei suoi cittadini. Mai, come in questi mesi, abbiamo potuto non solo riflettere su che cos'è la libertà, ma proprio toccare con mano che cosa significa non averla. Lo so che in questo tempo lo hanno citato molti, ma a me sembra quanto mai vero quanto cantava Gaber, la libertà è partecipazione, un sostantivo femminile di estrema attualità. La libertà che in questo tempo sospeso è stata fortemente limitata, non per una volontà prevaricatrice come nel ventennio, ma per tutelare la salute di ciascuno di noi, comporta un'attiva partecipazione da parte di tutti noi cittadini. Queste regole, questi limiti che sono stati imposti ci sembrano ogni tanto eccessivi, superflui o addirittura inutili, ma se non ci atteniamo tutti ad esse, rischiamo davvero di ledere il diritto alla vita di ciascuno, e specialmente dei più anziani. I primi a subire le conseguenze sono stati, come abbiamo visto, proprio i protagonisti degli anni della guerra e dell'immediata ricostruzione degli anni 50 e 60, coloro che ci hanno regalato questo cinquantennio di vita libera. In questi giorni di isolamento forzato ho pensato molto a quanto la vicina fase di ripartenza, dopo le lunghe settimane di stop quasi totale, la famosa fase 2, possa in qualche modo assomigliare a quel momento in cui l'Italia a pezzi dovette rimettersi in piedi nell'immediato dopo guerra. Certo, la situazione era molto diversa, una pandemia mondiale come quella che stiamo vivendo oggi non è minimamente paragonabile alla seconda guerra mondiale, alle atrocità che i nostri concittadini vissero e subirono in quegli anni terribili. Per oggi, come allora, dobbiamo ritrovare quello spirito unitario di riscatto che solo può aiutarci a riprendere in mano il nostro destino. In quella situazione tragica, gli italiani tirarono fuori tutte le loro forze, la loro creatività e i loro sogni di un domani migliore, e parteciparono tutti, ognuno con le proprie capacità e possibilità, alla rinascita. Oggi forse la frase di Gaber significa questa cosa concreta, partecipare e lavorare tutti insieme per ricostruire il nostro paese, la nostra regione, la nostra città, sapendo superare le divisioni che precedentemente ci separavano e creando nuove modalità di vita civile a livello lavorativo, familiare e sociale. Questa partecipazione sarà anche, bisogna dirlo, un sacrificio. Ancora una volta dovremmo attenerci alle norme necessarie perché le attività possano rimettersi in moto, stringere i denti perché non potremmo fare tutto ciò che facevamo prima, perché le nostre attese saranno, almeno nell'immediato, disattese e i nostri sogni non troveranno quella realizzazione concreta che vorremmo. Penso alle attività turistiche, ai locali pubblici, a chi lavora nel commercio, alla scuola. Nulla sarà come prima e probabilmente ci vorrà del tempo per recuperare ciò che è stato per tutto. Ma i tempi difficili e di crisi, come spesso ha dimostrato la storia, sono anche tempi di rinascita. Pensiamo a come è sbocciata questa primavera in cui tutti siamo stati chiusi, nelle nostre case, un po' cupe e pieni di ansia. Mentre noi ci sentivamo nel buio, tutto fuori è fiorito e luminoso come non mai. Vorrei leggerlo come un segnale di ciò che ci attende, che fra poco toccheremo con mano, se vorremmo non più guardare dalla finestra come facciamo ora, ma scendere in strada e respirare quell'aria, rimboccarci le maniche per costruire qualcosa di nuovo e di più bello. Senza dimenticare di tendere la mano a chi sarà più in crisi di noi, ai deboli che rischiano di perdersi, a coloro che da questa crisi faranno fatica a riemergere e che forse sono più di quanti pensiamo. Nel dopoguerra la lezione dei sopravvissuti è stata quella della solidarietà. Oggi più che mai, partecipare significa essere vicino a chi soffre. E questo è il compito non solo di noi in quanto cittadini, ma soprattutto della politica. Questa sarà la sua grande occasione di farsi vicino alla gente, di dialogare di nuovo con le persone che essa rappresenta, accompagnando e sostenendo la rinascita, organizzando percorsi nuovi e sostenendo i singoli che parteciperanno con visione che deve essere coraggiosa e lungilirante del futuro. Permettetemi, ci vuole coraggio, pazienza e anche entusiasmo. Chiediamo a tutti, in quanto cittadini, ma anche in quanto persone che hanno una responsabilità civile come me, di avere lo stesso coraggio ed entusiasmo che hanno avuto i partigiani, coloro che hanno dato la vita per la libertà e ai nostri padri costituenti. In realtà, se ci pensiamo bene, non stiamo parlando di futuro. Tutto questo è già presente. Chi più dei nostri medici, degli infermieri e di tutti coloro che hanno lavorato e continuano a farlo per salvare le vite umane, ai quali va naturalmente il mio ringraziamento più profondo, ci hanno dimostrato che gli italiani, i valdostani, questo coraggio e questa dedizione ce l'hanno, viva l'Italia, viva la Valle d'Aosta e buona festa della liberazione a tutti!